Ciao ragazzi, proprio al volo, come sapete ve l'ho detto anche a inizio settimana, ho iniziato The Last of Us 2 su Twitch, trovate sempre il link in descrizione, oggi lo continuiamo però da un po' prima, attaccherò la streaming alle 18, oggi non c'è neanche la serie A, non c'è niente, se non ci avete un cazzo da fare ovviamente se non uscite, dalle 18 a me mi trovate su Twitch per fare una tiratina di The Last of Us 2, bella secca, bella pulita e poi ovviamente un po' di sdrogo verso sera, verso mezzanotte insieme agli altri. Quindi raga vi aspetto, ricordatevi pure di seguirlo, è il canale The Twitch, gli mortacci vostri e di lasciare anche un like a questo video, grazie. Ciao a tutti ragazzi, sto facendo l'intro in live, lasciate un mi piace da cellulare, ricordate che non prende, proviamo ad arrivare a 25.000 incredibili pazzeschi là. Perché mi hai dovuto rirovinare l'intro Kaukurama? Perché mi hai dovuto? L'avevo fatta perfetta. Come lo faremo? Semplicemente facciamo share play, share play in due e giochiamo tipo mezz'ora e mezz'ora a capoccia. Cioè ovviamente è come se giocassimo tutte e due perché uno guarda il gioco mentre l'altro gioca, poi l'altro gioca e quello guarda il gioco. È molto semplice come cosa. Vabbè, potevamo start a nerchilling. No, mi viene le nodze. Oddio! Eh! Punto interrogativo, sì, perché la sblocchi. Pensate questi con questi, pensano che tu giochi pure due volte. Sì, due volte, eh, due volte con il gioco due volte. Oh, sì, se sta una bomba, se sta una bomba. Ah, qua c'è sta il camioncino. Il camioncino. E che ombra, signori. E proprio qua, Michael Jackson. Ecco! Ma se può suonare il pianoforte, urlo. No, no, sta bene, lazza. No, 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 sta zitta. Porco Dio, sta zitta. Ma chi è? Ma mi pareva un discorso che avevo già sentito. Ah, no, è a corso, se ho sentito. Ah, ma quella è la prima aperta, l'ho aperta prima, questa. O stai aperta la sua? L'hai aperta tu, l'hai aperta tu. Eccola, eccola. Ah, anzi, urlo. Urlo. Se gode. Ma io qua la posso. Ah! Che cazzo è, porca... Ma quanto è grosso, scusa? Ah, guarda, guarda. Ma te, ma è gigante. Ah, come è andata la VL? Va bene la VL? Can't run. Ragazzi, sento già i passi che passano. Qua c'è questa ranarte, là, palesemente appiccicata dietro. Eccola. Dove sta? Agri, confidate che abbiamo preso il giro perfetto. Anzi, urlo, eh. Ah! Joy Fruit mortacci. Ah! Ah! Corri! Ma in questo caso non corre! Cane di D! Ah! Ehi, ma me lo trovo davanti, non lo so già. Eh, io non so dove dobbiamo andare. Avevo perso proprio i luoghi. No, ma, però no, no. Prima pagina è vado su start, eh. Te lo dico. Va, va. Via, via, joystick. Diverti, ragazzi. Dietro a sta cosa a sinistra su una collina. Dove stavo? Poi mi spona davanti in mezzo ai fratti, sì. Proprio, eccola. Bella, 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 sì. Mo date sua destra, date sua destra. Mo so ho flashato, urlo. Ah! Ma stai scherzando! Oh, è buono, è buono. Sì, no, questa è una pagina. E' una pagina, è una pagina. Questa sì, è una pagina. Oh, nazzi, il quateista spawna. Ma che cazzo? Ah no. Un'altra cosa. Mamma. Siete, frate, ma si sono moltiplicati. Oi, oi, oi. Che cosa già? Dove? Siete. Che cosa strafandoso è real. Allora, no, questo è il solito luogo. Per solito, sei sicuro? Sì. Ah! E' il SUV che cazzo all'interno. Non c'è su questo cazzo, non guardare il SUV. Non ascoltarli. Non, 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 non. Eccolo vero Porco Porco Ma cazzo a culo Dio cane Ah vedi che bello Sì abbiamo proprio Questo è perfetto così per me Oddio è che non mi ricordo No porco dio Questo è il primo jumpscare real Questa è la bambina che te corre dietro Qui ci stanno i generatori E però ti ricordi che dovevamo puntarla in faccia? Perciacrone Perciacrone E quello era un generatore Sì l'ho visto Era blu Quello è un generatore No non è un generatore Ok Bravo Lo sento Lo sento Porco Rimani qua fermo Porco dio mi sta tiltando Dai ma te pare Guarda guarda Fortnight Ah sì le cuffie Le cuffie Avvenuto Ah Ok Devi stare molto bene Ciao Ah Oh 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 Ascensore Ascensore Non ti guarda indietro Dio mo Facchiate per cazzo Facchiate per cazzo Non ti guarda indietro Bravo 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 Vp Vp ma zii urlo del zoom oddio zii ci ho avuto un flash di una roba mi sa che tu molto chi devi fare la zona la zona che ci stava una glu 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 come si chiamano quelli le ruote di legno che vanno con l'acqua i mulini i mulini c'è stata una zona con un mulino me ricordo io questo sa io ogni volta che devo riscendi risali dalla cantina zii tu lo sai che si spegne la licedaria Ma tu stai scherzando? Ma come sono sovravvissuto io quattro anni fa a questa cosa? Destra, sinistra Ma secondo te li... Ma che è? Valutermi? Un ragazzo che veniva alle medie con me Ovvero io Ma no, la stai chiamata che sta avvicinando Cazzo te lo guardi, Kri, questo ti corre addosso No, Kri, non c'è poi a Nadia Ma perché? Nadio! Ditto! 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 Vedi perché non gioco in questo post finale Questo è quel post, porco di un finale Porco di un... Ma stai scherzando? Ma dritto Walter Mazzarri Possano gli angeli stare con te Stai costruire il bambino? No, arriverò il bambino Ah! 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 Andrei? Fatti prendere? Nabo! Sei morto! Ah! La prima morte! easy boys con me i miei video game con me sicuramente ci sono solo caricamenti sono con gli altri che ci sono queste banalissime morti fa così si si gli fai così gira e esci dalla porta guarda che banano che sciocco ma come balla? guarda guarda ma come si è chiusa la porta del bebbotto mi sono cagato sotto guarda che buchetto urlo che puzza di merda anche la finestra a sinistra subito già guarda grazie che non hanno messo i cosi più che altro i rumori dei tuoni che cazzo è stato? ma che era Rebecca? no Rebecca però porco dio veramente dai ma sembra malvagia ma sono tutte chiuse queste finestre no che è il rumore del tuono dai porco dio una cosa ho chiesto l'ho chiusa il verono è Rebecca che ride dove cazzo era? era subito a destra era ma vaffanculo sta zitto eeeh stasera c'è il delirio al maracana come window and aaaaaaah no ma sta ma sta ma sta ma sta come ha ho chiuso aspetta non so dove fa è questo è questo è questo è questo per me io ci sono arrivato da qua si io ci sono arrivato io non so pazzo io non so pazzo non mi fate passare pazzo che impazzisco porco dio ecco il momento boys è il momento di rompere slender the arrival queste sono le strade abbiamo fatte no ma dai ma che cazzo significa ma che cazzo mi metti là il faro Gesù Cristo invece metti una strada che è spianata e poi mi nascondi sto fregnaccio ma ho deciso oggi ti scrivo grigio su un po' di grigio no ti è incastrato già aaaaaaah non mi rompere i coglioni c'è da Hulk ma sto in mezzo al fuoco ma sto in mezzo a tutto me ne frega il cazzo giaccia per cazzo aaaaaah chiavi ah ok le chiavi fammi capire un attimo dove ho andato a metter queste chiavi eh sì stai bene là stai eh la madonna ma che è a curva sud vabbè non posso premestarte perché non mi fa premestarte no no chiappa sto joystick che cazzira no cappa aaaaaaa la scura ah e lei la Sium